Buongiorno a tutti, oggi questa piccola riflessione viene mentre io sono nelle case a benedire, a portare la benedizione pasquale nelle case e a pregare e a dialogare insieme alla famiglia. Oggi mi ha ospitato Giorgina a casa sua, dolcissima, la dolcissima Giorgina. Voglio dire una cosa semplice, semplice. Io la porto la benedizione del Signore dentro le case, però le nostre famiglie debbano poi mantenerla. E come si mantiene la benedizione delle case e la benedizione del Signore all'interno di casa nostra? Beh, si ottiene intanto pregando. Magari si pregasse un po' di più dentro casa nostra, anche insieme. Insieme, marite, mogli, figli, ogni tanto una preghiera insieme, un segno della croce, prima di pranzo e di cena, un momento di ringraziamento al Signore. E perché no? Leggendo anche insieme una piccola frase del Vangelo. E poi soprattutto vivendo la fedeltà, l'amore coniugale, l'esempio ai figli, l'educazione da dare con la propria vita, la pazienza, la gioia e anche il mettersi sempre nelle mani del Signore, nelle gioie, nei dolori di ogni giorno. Ecco, l'augurio che faccio a chiunque ascolta è che la benedizione del Signore inondi casa nostra e che il Signore possa essere l'ospite più gradito nelle case nostre. Ciao, auguri!